Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sulla nuova DLC di Butterfield 4 Naval Strike. Ok, oggi andiamo a vedere un'altra mappa, più precisamente Operazione Mortaio. Siamo in modalità Dominio, una modalità che sicuro voi conoscete in tantissimi, quindi perfetto, andiamo a vedere questa nuova mappa. C'è questo cazzo di mortaio là sopra che devo ancora andare a vederlo, quindi andiamo. Guardate che figata, qua sembra un altro gioco, sembra non lo so io, Dark Souls. E invece Battlefield 4, non fatevi ingannare. Cazzo un labirinto qua, madonna. Prevedo già delle morti proprio... Ok, dirigiamoci verso l'uscita, ok, eccoci qua. Dove minchia è il cannone? Il mortaio? Forse qua? Eccolo qua. Non so se si potrà usare in modalità Dominio, ma penso proprio di sì. Eccolo. Aspettate che non ci siano nemici qua. Esatto, si può usare. Madonna, che botta, che pianta. Non so se fa male anche, ma casino ne fa. Va bene, ci siamo fatti anche un cannone, adesso più fusi che mai. Andiamo ad ammazzare qualcuno. Veramente bello la mappa, mamma mia. Veramente stupenda, un misto tra Monti Altai e... Monti Altai e Operation... come cazzo si chiama? Niente, siamo morti, Dio. La WS è un'ottima arma. Sì, sì, sì. La prossima volta che moriamo la prendiamo. Un'ottima arma è anche questa, eh. Se avete dei nemici che sparano da lontano, tipo quelle teste di cazzo che ci sono là in alto. Aspetta che c'è il sole che mi rompe le fa... eccolo. Voi fate così? Niente, no, è un alleato, Cristo santo. Ho fatto fuori un alleato. Sì, Luca aveva una grande arma proprio, eh. Molto, molto interessante. Mi piace. Molto. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Cos'è? Chi c'è? C'è qualcuno che ci sta per uccidere. Ecco chi c'è. Ci siamo salvati per proprio un pelo. Oh, c'è un kit medico. Che Dio sia lodato. Ok, carichiamoci anche di munizioni e ripartiamo l'attacco. Minchia. Ci sparano col cannone, mi sa, eh. E per forza quelli sono lì, rinchiusi nella roccaforte. Come cazzo fai a... Ma noi cerchiamo di fargli il giro e di incularli lentamente da dietro. Uno, eccolo qua, uno. Molto bene, muori. Ok, siamo riusciti a fargli il giro. Vediamo. Ci stava per inculare, eh. Non so se ve ne siete ancora... No, cazzo. Va bene. Allora. Cerchiamo di tornare la sopra, ragazzi, perché qua... Ma stiamo anche vincendo. Di poco, di... niente, non stiamo più vincendo. Stavamo vincendo. Mh, nemici da questa parte, eh. Niente, Alfa la stanno prendendo, quindi noi andiamo verso Charlie. Veramente, la CVR da lontano, mamma mia, fa male come... niente. Cioè, è proprio zero. Guardate che merda, Dio mio, niente. Ma che marma è? Da vicino è letale, eh. Ma da lontano... niente. È inutile. Non so se ci hanno visti. Via, via, via. Via, via, via. Molto bene. Vediamo un po' qua. Chi c'è? Chi non c'è? Ma noi andiamo a conquistare, vaffanculo... Nooo, la Claymore! Nooo, maledetto Nabbo! Guardate, non ho parole. Quando salto su una Claymore, veramente, mi scappa via tutta la voglia. Quella poca voglia che ho. Fatemi uccidere uno con Luca. Vi prometto che dopo, guardate... Oh, 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 che c'è qua? Sì, ma vaffanculo! Cazzo c'è gli infrarossi, questo. Come faceva sapere che ero lì? Cioè, spiegatemi questo che cos'è? C'era una Claymore allo spawn, veramente. Cioè, questo qua morisse. Non è che sarebbe una brutta idea, eh. Korotovkov, come cazzo si chiama? Mi fidati un dito nel culo, vai, invece di mettere la Claymore allo spawn degli altri. Sacchi di merda. Niente, ragazzi, io laggo come una merda, oggi vi giuro che... Cioè, non sto scherzando. Laggo davvero tanto... Ma... Cioè, non capisco il perché. C'ho un ping... Vabbè, il 76 in questo caso è leggermente alto, ma di solito pingo 20. Dov'era qua? C'era uno che sparava. Ah, è qua. Ma dai, guardate, ma con un mezzo colpo siamo morti. Mezzo, mezzo colpo. Cioè, veramente, ma io non lo so che cazzo devo fare con questo gioco di merda. Non lo so neanche io cosa devo farci. Ci sono delle partite in cui, boh, giochi e la gente crepa così, neanche... Cioè, solo a guardarla, fai degli score tipo, boh, 60-10, roba del genere. E poi delle partite in cui la gente non crepa, ma neanche... Cioè, potete fare quello che volete, lanciargli un carro armato, niente. Questo qua ci ha preso in volo, stavamo cascando nel vuoto, ci ha preso in volo col cecchino. Vabbè. Proviamo a riprenderci alfa, ho già visto due, se non sbaglio. Uno è morto. L'altro è morto, eh, stella di servizio CVR, ma vai affanculo. Dov'è? Muori anche tu. Grazie, amico. Ce n'è ancora uno, cazzo, dove... Ma vaffanculo! Da dietro, è arrivato, eh, va bene. Questo serco, serco, cazzo, cazzo, ti chiami. Comunque tu ti chiami e vai a prenderselo nel culo. Vai, levati, Cristo santo, vai affanculo, madonna, ebbete, idiota. Hai avuto anche quello che ti hanno rianimato. Testa di minchia. Qua sono già arrivati, non ci posso credere. Ah, tu eri che facevi tutto sto casino. Grazie, amico. Facciamo una specie di baratto. Arriva qualcuno? No, è un alleato. Vediamo un po' chi c'è qua, se qualcuno risale. Cazzo, se riesco a fare una kill con sto cannone, veramente. Non penso proprio, eh, perché è impossibile. Però, aspettate che qualcuno si sta avvicinando. Insomma, questo c'è un'agittata ridicola, però, sto cannone, cioè. Niente. C'è qualcuno di qua, forse? Sì, c'è qualcuno, ma non è proprio così vicino. Oh, oh, eccolo qua uno. Un altro. Cioè, vedete che adesso la gente muore. Io non mi spiego il perché di questa cosa. Sono sempre io. Non è che mi sono sdoppiato. Oppure sto facendo giocare un altro. Sono sempre io. Il server è lo stesso. La connessione è la stessa. Non ho fatto un cazzo. Adesso il gioco funziona, diciamo, normalmente. Guardiamo da lontano se questo muore. Vedete che muoiono. Io non lo so. Va bene. Questo non è normale. Io ho anche mandato una lettera alla Dice. La quale non mi ha detto di andare a fanculo. In poche parole, accendassero loro a fanculo. Sarebbe ancora meglio. Ecco, c'era il coglione davanti. Dovevo sparare a lui. Così imparava. E si sta per concludere anche questa partita, ragazzuoli. Sono veramente, veramente affranto di tutto ciò. Chi c'è? Chi è? A chi spari, amico? A chi spari? Ah, tu spari a qualcuno che era lì dietro. E sarebbe anche morto, se non fosse finita. Perfetto, ragazzuoli. E' finita qui anche questo video. Io, come sempre, come faccio alla conclusione di tutti i video, di tutti i miei video. Ma questo è più peraltro per ringraziarvi. Perché veramente, ultimamente, ci stiamo ingrandendo abbastanza. Siamo quasi alla sole dei 2000 iscritti. Questo tutto grazie a voi. Quindi, come sempre, vi invito a mettere un mi piace a questo video, agli altri video, quelli che vi piacciono, a condividere, iscrivervi. Fate quello che vi pare. Basta che fate qualcosa. E io vi do appuntamento al prossimo video insieme, dove andremo a vedere magari un'altra mappa della nuova DLC o chi lo sa, qualcos'altro. Per qualsiasi cosa, ragazzi, non esitate a contattarmi. Qualsiasi domanda, richiesta, tutto quello che volete, potete scriverlo nei commenti. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.